Se avete provato inquietudine, se avete provato imbarazzo, se avete provato cringe, sappiate che non è nulla rispetto a ciò che ho provato io in quella stanza. Comunque sta bene, le donne ovviamente non le tratto così, le tratto peggio. Beh raga, come vedete mancano 20 giorni alla fine della stagione, siamo leggermente per 19 punti sotto alla bastarda lurida Pseuda, nonché l'unica ragazza che gioca a Trackmania in Italia. Abbiamo ancora qualcosina da migliorare. Oggi ragazzi vi racconterò un piccolo aneddoto. Ma che è quella roba là dietro? Calvin Klein. Quest'estate, come ormai ben sapete, il giumbone si è abbastanza dato da fare. Non con le donne, che ormai ho smesso. Basta, non voglio proprio fare una pausa dal genere femminile. Però si è dato da fare, nel senso che è uscito molto, ha visto la natura, tutte le sue sfaccettature. Guarda i venti. Guarda i venti. Ho fatto amicizia con degli scarabai stercorari, perché mi trovo molto a mio agio con loro, dato che entrambi sguazziamo nella merda. Però se c'è una cosa che mi mancava, è proprio l'esperienza di cui parleremo oggi. Mi dispiace non avere video e foto. Poi vabbè, come sapete, io preferisco vivermi l'esperienza e poi raccontarla, piuttosto che creare fuori il telefono. Cioè, non è che lo preferisco, però mi dimentico. Sono uno youtuber di merda. Era una caldissima giornata di luglio ed ero in giro con due miei amici. Le mie giornate le passo come i vecchietti a fare avanti e indietro per le vie principali delle città. E oh, raga, non c'è più niente che mi piaccia in questo mondo se non passeggiare. Almeno non mi drogo, dai. E camminando per le vie del pieno centro, a un certo punto sul muro di uno dei palazzi del centro città, noto, mi guardo molto attorno io. Non ascolto le persone, però mi guardo molto attorno. Sarà tipo una sorta di autismo. Mi scuso con tutte le persone che escono con me, non vi ascolto. Preferisco guardare le colonne e i piccioni che mangiano. Cazzo sul muro noto una cosa che subito attira la mia attenzione, ovvero test gratuito della personalità. Raga, probabilmente non mi conoscete abbastanza. No, 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 no. Con due le cose che odio. La mia vita e i ne... Focus, focus sul video, sti cazzi dei record. No, scherzo. Focus sui record. Raga, per chi non lo sapesse, io fotto tantissimo con i test sulla personalità e in generale qualsiasi tipo di test. Io sono il tipo, raga, che passa le serate a fare che tipo di principessa Disney sei. Non so se vi sono mai capitati o se vi hai mai preso la voglia di fare con i vostri amici quei test del cazzo. Che mestolo sei. E se c'è un test che più degli altri mi ha appassionato è quello delle 16 personalità. Probabilmente lo conoscete anche voi, è famosissimo. Le troie bastarde si mettono su Instagram. E io sono un affa, ma non potevo nascere nel medioevo, figa, con la peste, no? Dovevo nascere per forza nell'epoca dell'abbio di Instagram. Comunque, non ironicamente, a me queste cose piacciono. Per chi lo volesse sapere, dato che so che c'è qualche stronza lurida che lo vuole sapere, io sono un mediatore. Vabbè, insomma, vediamo questo cartello. Io ho il volantino addirittura. Test gratuito. Conosci il vero te stesso. Per sapere di più riguarda te stesso, vieni a fare questo test. Guardo i miei due amici e dico loro, vi prego, entriamo e facciamolo. Let's do this. Entriamo in questa porta che dava su un corridoio. Corridoio tipo lungo, penso, 10 metri, ma percepiti 90. Letteralmente era un corridoio bianco e lungo, molto lungo. Arriviamo in questa stanza, ancora più asettica del corridoio. Anche se non sarò bravissimo ad escriverla, cerco di farvi capire dove eravamo appena entrati. Praticamente entriamo in questo stanzone, questo androne enorme con soffitti altissimi, completamente bianco. In lontananza vediamo dei televisori, delle poltrone e un divanetto. Alla nostra destra una sorta di accoglienza, tipo quando vai al coop a prendere il numerino, perché la nonna si è fatta male al femore. Si avvicina la signora e comincia a farci, tipo... Oh, 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 no, no! Che scivolone finale, raga! Sono stato pure distratto, vaffanculo, dal cellulare che si è illuminato. Vabbè, è comunque un miglioramento, no? Ne trago soddisfazione. La signora si avvicina a noi e comincia a farci mille domande. Cosa fate nella vita? Quanti anni avete? Chi siete? Perché siete qui? Finchia, chill, signora, chill. Cazzata nera, annerita. O incazzata bianca, perché insomma, era di carnagione... Cioè, raga. Io sono sincero con la signora, dico che facevo il videomaker, che suona molto meglio di influenzo i ragazzini a scaricare Red Shadow Legends. Al che inizio a guardarmi un attimo attorno, un po' meglio, e noto una cosa. I libri che erano presenti in quel luogo, il giumbone, raga, li conosceva bene. Il luogo dove eravamo entrati apparteneva a Scientology. Non dirò nulla in questo video, però diciamo che è un... Non ho niente contro Scientology. E quello che dirò sarà ovviamente una testimonianza di quello che è successo. Dopo appunto averci fatto quelle 5, 6, 7, 154 domande, la signora ci fa accomodare in uno stanzino ancora più bianco, arrivo di qualsiasi mobilio, se non delle sedie, e vabbè, ovviamente è una scrivania per poterci appoggiare. Una situazione simpatica e divertente, in cui non vedevo l'ora di cacciarmi, ovviamente. Allora, ci sediamo, ovviamente distanti l'uno dall'altro, e iniziamo a fare questo test gratuito della personalità. Sarò sincero con voi, volevo andarmi. Cioè, non... Però, vabbè, il giumbone che comunque ha uno spirito impavido, rimane lì. Fai il test. Un test a crocette. 200 crocette. Sono sopra, let's go! Let's go! Let's go, cazzo! Let's go, sono sopra! Dodicesimo in Italia, per adesso. Nel caso qualcuno, un domani, gli venga la briga di passare, appunto, per quelle zone e di fare quel test, non voglio spoilerare troppo, però mi sono segnato qui un po' di domande, no? Le risposte che erano a crocette, appunto, erano d'accordo, neutro e non d'accordo. A volte ti capita di avere contrazioni muscolari senza alcun motivo logico? Perché ridi? È una domanda. Che mai è capitato a un appuntamento galante con una ragazza, la portate fuori a cena, per capire il suo carattere. Controllate se ha contrazioni muscolari. Pugno nelle costole, vedete come si contrae. Parli lentamente. Questo, questo, cioè, qui ci sta, potrebbe essere sinonimo di ansia. Non è sempre detto. Ti danno fastidio i tuoi fallimenti passati? Porco due, ci ho fatto un canale. Canti o fischietti spesso solo per il gusto di farlo? Io non capisco, cioè, come è collegato. Mangi lentamente? Ma come fai a capire se sono tipo un pezzo di merda se mangio velocemente? Useresti delle punizioni fisiche su un bambino di 10 anni se rifiutasse di obbedirti? Un bambino maschio no, però sei femmio. Fai spesso delle gaff? Io e gli altri due miei amici terminiamo il test il più velocemente possibile e lo consegniamo alla signora che era all'accettazione. Una cosa che hanno detto è che il test era da fare manualmente con la penna. Poi consegnare questo foglio. Noi pensavamo che da lì a poco saremmo usciti, mai pensiero fu più sbagliato. Ci chiedono un po' di pazienza e di accomodarci sui divanetti. Ci piazzano davanti a questi televisori e accendono un lettore DVD che pensavo fossero estinti. Già tanto che non usassero i floppy disk. E fanno partire questo documentario mettendoci anche delle cuffie, dei bei cuffioni. Cioè eravamo ancora più isolati dal mondo. Eravamo in questa stanza in fondo a un corridoio tutta bianca con delle mensole dei libri in un silenzio tombale. Eravamo in centro a Milano ma allo stesso tempo distaccati dal mondo. Era assurda come situazione. Una backroom. Una backroom dove c'era Tom Cruise che ci inseguiva sorridendo. Assurda. Ci fanno partire questo video diviso a capitoli. Tra l'altro era doppiato un po' stile D-Max. Era un po' weird diciamo il doppiaggio però l'abbiamo guardato con estremo interesse. Tra l'altro io ancora non vi ho detto appunto come conosco Scientology e di cosa tratta Scientology. Scientology è una sorta di religione, è una chiesa che è stata fondata non sbaglio nel novecento quindi comunque una delle chiese più nuove che esistono al mondo dovrebbe aiutarti a raggiungere la serenità, la felicità seguendo il loro credo. E fin qui è tutto ok. Il problema è che c'è qualche piccolo scandalino. Non siamo qui per parlarne. In questo documentario, questo video che ci hanno fatto vedere si parlava appunto di come la nostra depressione, come la nostra tristezza, a volte non derivi solamente da quello che ci ricordiamo e da quello che viviamo ma potrebbe derivare anche da traumi passati, addirittura traumi avvenuti ancor prima della nostra nascita. E finché mi dicevi i traumi di quando eravamo piccolini, ok. Ma i traumi precedenti alla nascita, come? La risposta mi è stata subito data perché nel DVD c'è questa scena che mi ha fatto abbastanza sorridere, c'è questa madre incinta che si gira e becca esattamente sul costato il comodino e quindi questo va a causare danno cerebrale al bimbo che nascerà con dei problemi emotivi, problemi anche legati alla depressione. Non sono un medico, non sono uno psicologo o uno psichiatra. Magari effettivamente c'è qualche depresso che lo è non tanto perché la sua vita è una merda ma perché la madre è scivolata sopra una... Può essere, non sono uno psichiatra, non lo so raga, io non lo so. Mi dissocio, dissociamento avvenuto. Finiscono di controllare i nostri test a crocette e ci chiamano una alla volta in questo stanzino, quello di prima, bianco, asettico, e ci mostrano i risultati del test. Le risposte come vedete vengono date in una scala da 100 a meno 100, laddove lo 0 è la normalità, il 100 è la cosa migliore che puoi ottenere e il meno 100 è la cosa peggiore ovviamente. Con anche delle parole tipo stabile, instabile, felice, depresso, perché sappiamo benissimo che il contrario della felicità è la depressione. Composto, nervoso, sicuro, insicuro, attivo, inattivo, bla bla bla. Eravamo ciascuno da solo con un uomo o una donna che ci avrebbe spiegato il risultato del test. Io mi sono beccato la signora incazzata bianca che appunto mi ha fatto notare quanto la mia linea della depressione, meno 99,9, è rasente al depresso. Comunque ci sta è che io sia venuto depresso, dato che nella domanda ti senti spesso depresso, ho messo la crocetta sul sì. Mi chiedo allora a cosa servono le altre 199 domande. Di contro è venuto fuori che sono una persona abbastanza attiva e che ho un alto livello di comunicazione e so apprezzare le cose. Sono molto irresponsabile. Fin qui raga tutto era ok, cioè io mi sarei preso questo test e me ne sarei andato a casa facendomi una grassa risata, magari una grassa risata no perché comunque sono venuto depresso quindi me ne sarei tornato a casa. Ahimè però l'esaminatrice mi ha fornito diversi volantini e libri gratuiti dicendomi che avevo bisogno al più presto di fare qualcosa perché appunto era venuto fuori che ero depresso, che avevo bisogno di aiuto, che dovevo agire il prima possibile perché la mia situazione era molto grave. Quindi ha iniziato a cercare di vendermi un libro di L. Ron Hubbard. Quando ha visto che non ero volenteroso di acquistare il libro allora mi ha detto fai una cosa, vieni almeno a fare il nostro corso. Abbiamo dei corsi base, iniziano dai 20 euro, 30 euro per poi andare a salire se si sale di livello. Un JRPG in poche parole questa chiesa e io allo stesso modo di quando arriva un venditore ambulante che cerca insistentemente di venderti l'accendino a forma di cesso le dico guardi non sono interessato, non si preoccupi, cioè andrò da uno psicologo se effettivamente avete visto che sono depresso. Appena ho nominato lo psicologo raga il fuoco, il fire nei suoi occhi si è acceso. No no no, la psicologia, lo psicologo non sempre aiuta, bisogno di un aiuto in più, hai bisogno di noi. Non ho studiato psicologia però, tra l'altro mi sono letto volentieri anche questo libricino che mi hanno fornito gratuitamente che si chiama La via della felicità, guida basata sul buon senso per una vita migliore. Regola numero uno per la via della felicità. Abbi cura di te stesso, curati quando sei ammalato, spesso le persone quando sono ammalate anche di malattie contagiose non si isolano né cercano di ricevere una cura appropriata. Mantieni pulito il tuo corpo, proteggi i tuoi denti, mangia adeguatamente, riposati. Non assumere droga o medicinali, non bere troppo alcol, sii fedele al tuo partner, ama aiuta i bambini, rispetta i tuoi genitori, non fare niente di illegale, non assassinare, regola numero otto, è importantissimo. Sostieni un governo che è stato creato ed opera per l'interesse di tutti. Io mi chiedo come sia possibile che questo sia diventato un culto, è una religione e il luismo no. Comunque dopo un pomeriggio passato a dire no non mi interessa, finalmente ci hanno lasciato andare, ci hanno fatto uscire senza acquistare nulla. Tra l'altro penso che ci abbiano diviso proprio per cercare di convincerci singolarmente. Siamo usciti ringraziando i gentili signori di averci accolto, di averci fatto fare questo test gratuito sulla personalità. Mi tengo i miei 20 euro, non acquisterò il libro. Se avete 20 euro da parte comprate il mio fumetto, non vi aiuterà a essere persone migliori o persone felici. Però diciamo che lo preferisco come lettura, dipende dai gusti ovviamente. Posso dirlo senza che qualcuno se la prenda, se c'è qualcosa che non va nella vostra vita, magari potreste affrontarla in modo diverso, interfacciandovi con uno psicologo, donando a ciccio gamer per finire sulla lavagnetta. Cioè ci sono altri modi per essere felici nella vita. Sicuramente un video meno ironico e simpatico del solito, però ci tenevo a farlo perché ho seriamente paura che qualcuno magari un po' debole vada ad affidarsi a persone sbagliate. Non dico che non sia, non voglio attaccare nessuno. Se effettivamente andate a dire a un ragazzo che è clinicamente depresso tramite un test a crocette, consigliategli anche un percorso con uno psichiatra piuttosto che un libro da 20 euro. Ricordatevi ragazzi, molto importante per essere felici, non assassinate il prossimo.